Però mi piaceva ricordare che Teresa Mattei, che era deputata della Costituente, recentemente scomparsa peraltro, che il nome di Battaglia Chicchi fu quella che si inventò la mimosa, fiore povero che era il fiore del partigiano. Infatti la mimosa è simbolo dell'8 marzo in Italia proprio per questo, perché lei si inventò questo segno del fiore del partigiano. Pensare di ricordare che l'8 marzo è una festa così, perché ci furono delle donne straordinarie che in quell'epoca difficile fecero a sacrificio della loro vita, lottarono per i diritti delle donne più di altri e per i diritti di libertà di questo Paese, credo che sia una memoria che noi dobbiamo sempre tenere presente nelle cose che facciamo, perché quella memoria è quello che ci garantisce a noi di essere qui oggi a rappresentare le istituzioni e alle donne in particolare di avere un ruolo decisivo nella vita politica, culturale e sociale di questo Paese. Quindi lascio la parola alle mie colleghe, che poi non si occupano solo di donne, è chiaro, si occupano di tutto, però in particolare sui temi di genere credo che questa legislatura abbia fatto dei grandi, grandi, grandi passi avanti.